La macchina era dietro, la mia era indietro qua, ad un tratto ha preso fuoco e sono venuto a chiamarmi. Abbiamo sentito una botta e basta, se è sceso giù c'è la macchina, non sappiamo di chi è la macchina, tra tutte le macchine parcheggiate è l'unica che nessuno sa di chi è, preso fuoco, noi due ragazzi siamo andati a prendere gli istintori nei box, hanno cominciato a spruzzare, tutte non sono arrivati completamente. Ciao 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 Questa è la nostra vicina sopra Una parcheggiata davanti, si stava per prendere poco anche questa Questa è un po' che si deve essere bruciata, ma è dentro quella piantina che era spiegato.